buongiorno ragazze oggi vi presento un prodottino meraviglioso e soprattutto fantastico l'is unlimited un siero bifasico significa che è un prodotto che noi quando lo andremo a erogare sul palmo della nostra mano saranno due prodottini che poi mi scegliamo bene e passiamo sulle nostre lunghezze ovviamente parlo di un capello precedentemente lavato e tamponato questo è un siero pre piega per capelli crespi ribelli e dopo l'utilizzo saranno già al tatto subito più lisci più nutriti e soprattutto comunque molto più lucidi più setosi è un cappè è un prodotto scusate che essendo un siero ci possiamo tranquillamente anche di utilizzarlo su un capello fine perché non appesantisce assolutamente una volta finita la nostra piega un'altra piccola quantità la la possiamo lavorare sulle nostre punte proprio alla fine vedete in questo modo farà sì che laddove ci sono le nostre doppie punte che risultano un po più crespe un po più opache noi andiamo a sigillare bene e dare un po più di lucentezza una lucentezza maggiore ragazze grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille